Il nuovo anno propone per la sedicesima giornata di eccellenza B il match tra due compagini che occupano le posizioni nobili della classifica. I padroni di casa del Baiardo, terzi in regular season, ospitano al 25 aprile l'Atletic Club Albaro, quarto. La gara dell'andata terminò con un pareggio a reti inviolate. La cronaca del match inizia il settimo con questa conclusione di Ferrario del Baiardo che non inquadra la porta. Al nono, dal rigo per gli ospiti, ci prova da fuori aria. Palla sopra la traversa. Sul successivo corner azione pericolosa in area dei padroni di casa. Pantanella scocca il tiro. Damora respinge corto favorendo il tappin da due passi di Diliberto. La sfera impatta su Campitan Merialdo, accendendo le proteste degli ospiti. Il direttore di gara pica della sezione di Roma 1 non ravvede nulla di sanzionabile. Al quattordicesimo, Giambarresi del Baiardo lancia bene Romei. Tiro di quest'ultimo che si spegne sopra la traversa, ma l'assistente segnala la posizione di offside del numero 9 di casa. Tre minuti a seguire e Bartoletti dell'Atletic anticipa Romei, pronta ad appoggiare di testa rete. Al diciannovesimo, gli ospiti passano in vantaggio. Lo spiovente di Lerini da calcio piazzato pesca ottimamente Donato che di testa insacca le spalle di Damora. Rivediamo la marcatura di Donato che sblocca la gara. Al ventiseiesimo, l'Atletic va vicino al raddoppio. Gaspari ruba la palla ad Ungaro. Si invola verso la porta avversaria mettendo in serie a difficoltà Damora che respinge il tiro deviando in corner. Due minuti dopo il Baiardo perviene al pareggio. Oliviero apre ottimamente per Romei, abile di destro a superare Bartoletti in uscita. Anche in questo caso rivediamo la marcatura di Romei che riporta in parità il match. A tre minuti dal termine della prima frazione il Baiardo raddoppia. Oliviero, dalla sua aria di rigore, inquadra la posizione favorevole di Romei lanciandolo a rete. Dribbling ai danni di Bartoletti e doppietta personale concretizzata. Al quarantacinquesimo, altra opportunità per il padrone di casa con Oliviero che calcia a rete. Nel proseguo dell'azione il direttore di gara Pica punisce con il rosso diretto questo fallo di Gattiglia. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1 per il Baiardo. Si ritorna in campo. Ruffino del Baiardo ci prova da lontano. La sfera lambisce il palo terminando la sua corsa a fondo campo. Quattordicesimo, Atletic in avanti. Da Rigo pesca il neo entrato Cagliani. La sua girata di testa però è debole. Al sedicesimo pareggio dell'Atletic. Pantanella dal limite vede da Rigo lasciato incomprensibilmente privo di marcatura. Tutto troppo facile per non sfruttare la favorevole occasione. 2-2 e giochi nuovamente riaperti. Ventitresimo, protesse dell'Atletic per un presunto tocco di braccio di Ungaro in area del Baiardo. L'arbitro non ravvede gli estremi per assegnare il penalty. Sul fronte opposto anche Romei protesta per questo intervento in area avversaria. Anche in questo caso nulla di fatto. La gara sembra ormai incanalata sui binari della parità. Si è giunti infatti ben oltre il 49esimo quando il tiro di Nappello dal limite trova la deviazione fortuita di Di Pietro che spiazza il proprio portiere. La sfera termina in rete per il 3-2 dei padroni di casa. Dopo pochi minuti giunge il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria del Baiardo in estremis su un Atletic molto ridimensionato a casa delle numerose assenze.